Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, in Parlamento stanno decidendo se farci fare o no il referendum sul nucleare, se concederci di dire la nostra opinione e decidere del nostro futuro. E' arrivata anche Greenpeace, con gli striscioni, ma li hanno presi e li hanno portati via. Non ci vogliono fare parlare, io non posso parlare, loro non possono parlare, tu non puoi parlare, va bene, allora non parliamo. Però possiamo parlare, noi non lo vogliamo nucleare, gli italiani non lo vogliono nucleare, capito? Capito? Si contenga, si contenga. Ha parlato l'onorevole Pierpaolo, la seduta si scioglie.